buonasera a tutti io sono luca fiore questo è oggi in borsa l'esclusivo format di money.it sull'andamento dei mercati finanziari prima seduta dell'ottava rinsegna della debolezza per i listini europei che pagano pegno al segno meno registrato a wall street ai nuovi focolai che si registrano in in asia è un sentiment generale che comincia un po a scricchiolare in lieve controtendenza il listino di piazza affari dove il fuzi mi ha terminato un rialzo 0 4 per cento a 24 mila 862 virgola 68 punti grazie al buon andamento delle aziende di pubblica utilità era in salita del 2 35 per cento ital gas del 2,06 per cento e a 2 ha fatto ha messo a segno un più 1 e 23 per cento la performance migliore e appannaggio di unipol più 259 per cento che venerdì ha presentato i conti trimestrali bene anche il banco bpm più il 98 per cento sempre al centro del delle grandi manovre relative al consolidamento del settore tra le performance peggiori troviamo atlanti a meno 2,02 per cento in questo caso anche in questo caso sempre al centro delle delle voci sulla vendita della quota in autostrade per l'italia segno meno anche per leonardo meno 0,92 per cento exor meno 0,73 per cento ed enel meno 0,57 per cento sul completo si segnala il più 18,4 per cento di gabetti property solution e più 17 65 per cento di itway e più 16,17 per cento di irce dietro la lavagna invece troviamo data logica eurotech e il titolo dell'as roma che scese rispettivamente del 385 del 3,39 e del 3,18 per cento per quanto riguarda le squadre di calcio si segnala il più 301 per cento delle azioni juventus che oltre al fatto che la squadra ha ancora possibilità di qualificarsi per la prossima champions league oggi nel corso della seconda parte ha capitalizzato le voci di un possibile addio del calciatore ronaldo dal fronte ai titoli di stato lo spread btp bunda in seguito di oltre due punti percentuali portandosi al 118 punti base da money.it per oggi è tutto l'appuntamento è a domani buona serata